Buongiorno, buon sabato 25 di marzo. Ben trovati a mattino 6, ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Andiamo subito a vedere insieme i titoli dei giornali regionali. Partiamo dal quotidiano Il Centro e dall'edizione di Pescara. Dopo il sisma, scusate, scusate, recuperiamo l'edizione di Pescara. Bambini abusati, nuove denunce. San Giovanni Tiatino, l'allenatore arrestato, trema e non risponde al GIP. Questo è il titolo di apertura. Poi vedete la fotografia a centropagina. Trent'anni a Dilello, vasto uccise l'investitore della moglie. Ieri ne è arrivata la condanna in primo grado da parte della corte d'assise di Lanciano. E poi più avanti andremo a vedere anche il servizio. Nel taglio alto, raduno degli alpini a Isola del Gran Sasso, in 10.000 per ricordare la campagna di Russia. E poi accordo con la Croce Rossa, la regione assume 23 autisti soccorritori. All'interno, per i richiami dal nazionale, trattati dell'Unione Europea. Oggi si celebra il sessantesimo anniversario, capitale blindata. E poi a 52 anni l'attentatore di Londra e un padre di tre figli di origine britannica, ma convertito all'Islam. Poi nelle cronache a Pescara, pista ciclabile contestato Alessandrini, Montesilvano, disabile, resta a piedi per le cure. E ancora per quanto riguarda le cronache pescaresi, arriva la barriera che salva il mare, lunga 125 metri, eviterà che l'acqua del fiume Pescara inquini l'area balneabile. Nel taglio basso, Chieti, l'acqua santa esce dal dispenser. Per novità nella cappella dell'ospedale, l'ASL dice che ci sono ragioni igieniche. Andiamo avanti sempre con la lettura del centro. Adesso passiamo all'edizione di Chieti. Lanciano Vasto, bambini abusati, nuove denunce. Stesso titolo che in precedenza per questa pagina. Andiamo a vedere nelle cronache. Lanciano, l'alunno autistico non ancora iscritto. Così l'avvocato Nicla D'Angelo. E poi Chieti, Movimento 5 Stelle denuncia 13 scuole, non sono sicure. Sempre per quanto riguarda l'istruzione, ma adesso siamo all'Università di Chieti Pescara. A Teneo, il rettore si è dimesso. D'Ilio Indagato scrive al ministro, lascio per il bene dell'università. Andiamo ancora avanti, sempre sul quotidiano il centro. Apriamo adesso la prima pagina dell'edizione di Teramo. Dopo il sisma è impossibile ripartire in presa di Montorio. La burocrazia ci impedisce di riaprire altrove questa denuncia. Andiamo a vedere nelle cronache adesso l'inchiesta. Papà accusato di molestie sulla figlia di 4 anni dal Tribunale dei minorenni. E poi, sempre a Teramo, una casa dello studente per 212 posti. Ancora bambini abusati. Ritroviamo la notizia che abbiamo visto in precedenza in apertura di pagina, sia sulle edizioni di Pescara che su quella di Chieti. L'allenatore di baseball, arrestato, non parla davanti al giudice. Andiamo adesso sulla prima pagina dell'Aquila. Comunali, ipotesi, bergamotto. L'Aquila, l'editore, potrebbe riunire le varie anime del centrodestra. Poi nelle cronache, ricostruzione, infiltrazioni dei casalesi, sventate dalla procura. E qui vedete una foto del PM Fabio Picuti. E poi a Sulmona, Gianna e Valentina, oggi spose. Adesso cambiamo testata. Passiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Vendetta di Vasto, 30 anni a Dilello. Il titolo di apertura su quanto accaduto ieri in corte d'assise a Lanciano. Condannato per omicidio premeditato, l'uomo che il primo febbraio sparò a Italo De Lise, ragazzo di 21 anni, responsabile dell'incidente stradale in cui perse la vita la moglie Roberta Smargiassi. E poi troviamo le reazioni. La difesa farà appello. Il dolore muto dei genitori di Italo. Andiamo a centropagina adesso. Presunti abusi sul trabocco comprato da Milia Pescara scatta l'inchiesta sulla struttura a un tempo di proprietà dell'ex deputato Sabatino Aracu. E poi, in questa fotonotizia, una star per la Fontana di Spalletti, il restauro affidato a Carla Giovannone, autorità nel campo. Il vertice di ieri mattina, leggiamo dalla didascalia, tra il presidente del Tribunale Angelo Boz e il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, ha dato il via libera all'intervento su una delle maggiori opere d'arte contemporanea della città. Nel taglio basso, l'allenatore pedofilo, ecco la casa degli orrori. Andiamo a leggere un estratto dell'articolo firmato dal collega Gianluca Lettieri. C'è una casa degli orrori nella terribile storia dell'allenatore di baseball che abusava dei piccoli atleti della sua squadra e l'appartamento di San Buceto, di proprietà della mamma dell'indagato, dove, secondo l'accusa, si sono consumate alcune delle violenze. Vittima uno dei bambini, quello più piccolo. Le testimonianze dei ragazzini, ritenute genuine dal G. Pantonella Radaelli, sono sovrapponibili sia per quanto riguarda il modus operandi dell'indagato sia in relazione ai luoghi delle violenze. Andiamo a vedere adesso di spalla. Rischio sismico, legge regionale bocciata dalla consulta. Bruzzo censurato, opere minori dichiarate legittima, la linea morbida su vigilanza e controlli. Questa è la decisione della Corte Costituzionale. Andiamo nel taglio alto. L'Aquila rinasce, parte l'esposto sul tunnel sotterraneo a filo dei palazzi e poi Roccaraso, Fabio Cannavaro, campione mondiale, compra casa sulle piste da sci abruzzesi. E poi in Serie A, Pescara parla papà Oddo, è stato un anno stregato. Mio figlio Massimo ha commesso errori, ma la rosa disposizione era inferiore a quella dell'anno scorso. Zeman parla un solo calcio. Così il papà di Massimo Oddo Franco. Adesso andiamo avanti, sempre sui quotidiani regionali, e ci spostiamo in provincia di Teramo con la prima della città. I tecnici della procura nelle scuole, il titolo di apertura, i periti della maxinchiesta in sopralluogo per verificare i lavori eseguiti da comune e provincia. E poi troviamo a centropagina la notizia che riguarda l'omicidio di Vasto, condannato il marito che ha vendicato la moglie 30 anni di carcere a Fabio Di Lello. Sotto la fotonotizia, Roseto, finalmente ammessi gli aumenti, il sindaco punta il dito contro i precedenti amministratori. Andiamo nel taglio alto, il rettore sui contrasti per la casa dello studente, più che corvi sono solo galline spennacchiate, dice il rettore dell'Università di Teramo. E poi ricostruzione di spalla, recuperare i contenitori degradati per rigenerare il capoluogo. E poi, dopo il rapporto shock verde pubblico, Mastro Mauro fa la vittima. Andiamo a vedere le altre notizie. L'arresto dei carabinieri, latitante della Sicilia scoperto a Colonnella, poi incidente in moto a Silvi, muore cinque giorni dopo lo schianto. E ancora oggi parla Cocciolito, guerra fredda sul cineteatro, la Riccitelli conferma la stagione di prosa. Questo per quanto riguarda le prime regionali. Adesso, come di consueto, apriamo lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Andando a vedere i principali quotidiani italiani, partiamo dal Corriere della Sera, titolo di apertura dedicato al sessantesimo anniversario dei trattati di Roma e Europa. Non solo protocolli, il vertice, il pontefice incontra i 27 leader dell'Europa, populismi nati dall'egoismo, dice Bergoglio. Persa la memoria del muro di Berlino. E poi, dopo il richiamo del Papa, la reazione del vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, un sussidio di disoccupazione dell'Unione Europea, appunto per venire incontro ai problemi, soprattutto delle persone più giovani, che faticano a trovare lavoro. E poi, nello spazio dedicato agli approfondimenti, e dunque troviamo il fondo di Ernesto Galli della loggia, Beppe Grillo e i suoi, la politica che manca nei 5 stelle. E poi, a centropagina, invece andiamo negli esteri, in particolare negli Stati Uniti, il presidente rinvia l'esame delle nuove misure sulla sanità, fronda repubblicana a Trump e l'Obamacare resta in piedi. Vi ricordo, l'Obamacare è la riforma sanitaria voluta dal ormai ex presidente Barack Obama per estendere l'assistenza sanitaria anche alle persone che non possono permettersi una assicurazione. La Repubblica ora, il Papa all'Europa, mai più muri, Francesco è leader, non solo regole e finanza. Oggi i 27 firmano la dichiarazione di Roma, intervista a Moscovisì, l'Italia accelera il risanamento, rischia di rimanere nel vagone di coda. E poi, nel taglio alto, la sconfitta di Trump tradito dai repubblicani resta la sanità di Obama, mancano i voti per la controriforma, l'ira del presidente, il sistema esploderà, ora cambio il fisco. Andiamo ancora avanti sulla stampa, cortei e black bloc, assedio a Roma nel giorno dell'Unione Europea, il Papa ai leader, basta egoismi, torniamo ai valori delle origini. Oggi nella capitale, come detto, la celebrazione dei trattati di Roma. E poi la notizia che davvero ha fatto il giro del mondo, il primo smacco per Trump sulla sanità, al congresso non ha i voti, obbligato a ritirare il piano per cambiare la riforma di Obama. Scendiamo a centropagina, Torino è un modello di governo, intervista la sindaca Pendino che annuncia azioni legali per riavere le risorse tagliate. Così il quotidiano torinese la stampa. Adesso invece ci spostiamo nella capitale con il messaggero, Europa la prova, la sfida di Roma, capitale blindata per la ratifica del nuovo trattato dell'Unione Europea, il Papa ai premier, non solo regole e finanza. Gentiloni, il premier dice ripartire da lavoro e welfare, centro paralizzato intanto, sette cortei, no flight zone e 5 mila agenti per i presidi di sicurezza. Intanto fermati e spulsi 170 anarchici, residenti in fuga e negozi chiusi a Roma. Poi ritroviamo la notizia che riguarda Trump e lo schiaffo preso per la controriforma che doveva abolire l'Obamacare sulla sanità. Vasto sparò al giovane che l'aveva investito, uccise per vendicare la moglie, 30 anni di carcere a Fabio Di Lello. La sentenza dice no alla giustizia, fai da te. E quindi ritroviamo anche un richiamo che riguarda la nostra regione sulla prima del messaggero. Andiamo ancora avanti sul tempo e dunque restiamo ai quotidiani della capitale. Il sabato sfascista, facendo un gioco di parole, Roma sotto assedio, la paura dei black bloc, i capi dell'Unione Europea in Campidoglio, città blindata. L'ordinanza del questore, possibili attacchi degli antagonisti e il traffico andrà in tilt. E poi a centropagina la foto perplessa di Rosi Bindi, signora Pietà e il titolo. Andiamo a leggere perché dopo l'assalto alla massoneria, Rosi Bindi se la prende con il calcio. Andiamo adesso sul sole 24 ore, il principale quotidiano economico italiano. An apre ovviamente con i temi della finanza. Un piano sblocca investimenti, agevolazioni, credito delle assicurazioni, via libera a nuove opere Anas, rilancio delle cartolarizzazioni anche per i famosi non performing loans, cioè le sofferenze bancarie con la manovrina di aprile, sconti fiscali e semplificazioni per lo sviluppo. Ritroviamo anche i 60 anni dell'Unione, il Papa è leader dell'Unione Europea, non è solo regole ma dignità dell'uomo. E poi andiamo a vedere anche una notizia che riguarda le assicurazioni. Zurich chiede ai soci, la delega per un maxi aumento di capitale, la compagnia ha nessun interesse per generali, fino a 13 miliardi ai prezzi di borsa. Nel taglio alto il focus, lotta all'evasione IVA, controlli anche nel 2016, dal fisco le prime 30 mila lettere ai contribuenti con dati sospetti. Andiamo avanti sul fatto quotidiano. Unione Europea ha quattro cortei e un funerale. Papa Francesco dà l'estremo unzione, l'Europa tradisce la sua storia per la finanza. 1957-2017, dunque il sessantesimo anniversario, i 27 leader riuniti in una Roma blindata per celebrare solo se stessi, scrive il fatto. Andiamo a vedere anche questa simpatica vignetta Happy Birthday Europa. E vedete la bandiera in cima ad un muro con il filo spinato, proprio a richiamare i problemi che riguardano l'immigrazione, i muri che tornano ad essere costruiti all'interno della Unione Europea. E poi affari e potere, Consip, gara taroccata, lo dice persino Romeo. Andiamo ancora avanti. Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Fertri, allarmante denuncia della Nato, l'Europa ormai è il luogo più pericoloso al mondo, il comandante delle forze alleate, troppi terroristi, la minaccia di attacchi è altissima, svanito il sogno di un'Unione Pacifica, fallite le politiche sugli immigrati, l'Unione Europea va buttata, questa è la posizione di Libero. E poi a centropagina, Agnelli e il mafioso, la Bindi lo dimostri, come mai Rosi non tira fuori le intercettazioni e quindi diciamo che Libero si ricollega anche alla prima pagina del tempo, l'abbiamo visto in precedenza. E poi il crack del gruppo Il Sole 24 Ore, la colpa del crack degli amministratori del giornale, l'ex direttore Roberto Napoletano stavolta ha ragione. Il giornale, Vertice di Roma, divisi e super blindati, è il giorno dell'Eurotta, l'Unione Europea a pezzi, compie 60 anni nel terrore degli scontri. E poi a centropagina, Papa Francesco dal Papa Mancato, la frattura che separa due chiese, Bergoglia e Milano incontra Scola. Andiamo sulla verità, il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro, le tasse che tagliano le pensioni, il titolo di apertura, tra balzelli, palesi e occulti, prelievi e rivalutazioni negate, i pensionati pagano di più chi lavora, 70 miliardi all'anno. E l'Inps fa il furbo con chi chiede di avere gli aumenti a cui ha diritto. E poi l'intervista con Silvio Berlusconi, i veri populisti siamo noi. Andiamo avanti sull'unità, troviamo una foto della bandiera europea con alcune scritte nelle varie lingue che compongono l'Unione. Siamo tutti europei, così l'unità è il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. Il manifesto, restiamo nell'area di centrosinistra, smemorati con la foto di Papa Bergoglio, che parla è leader dell'Unione Europea contro l'Europa dei muri e senza memoria del passato. Papa Bergoglio striglia i leader dell'Unione Europea alla vigilia delle celebrazioni dei trattati di Roma. Al vertice in Vaticano invoca laicità e solidarietà per fermare i populismi e oggi sfilata di cortei in una capitale blindata. Intanto negli Stati Uniti il Presidente Trump, affossato dal suo partito, i repubblicani ritirano la Trumpcare. Andiamo sul secolo XIX, il quotidiano genovese. Roma chiusa in casa, la festa dell'Unione fa paura. Il Papa e i leader europei basta con gli egoismi. Oggi le celebrazioni dei trattati, città blindata per il rischio di black bloc. E poi a centropagina la rete di Khalidi, il killer insegnante. Attentato di Londra, nuovi arresti, polemica sulle indagini di Scotland Yard. Il mattino di Napoli, Europa al bivio, il Papa alla sferza. Oggi il vertice sulla nuova agenda. Bergoglio dice non solo regole e finanza. I leader rinnovano i trattati in una Roma blindata. Gentiloni dice ripartire dal lavoro e c'è l'incognita della Grecia. E poi a centropagina troviamo lo sport. La nazionale sconfitta l'Albania per 2 a 0 nelle qualificazioni mondiali dagli azzurri ieri a Palermo. Insigne operaio nella notte di immobile ovviamente. L'attenzione del mattino si concentra sul gioiellino del Napoli. La gazzetta del mezzogiorno adesso. Il quotidiano pugliese apre sempre sulle celebrazioni di Roma e sull'incontro di ieri con Papa Bergoglio e i leader europei. Il Papa benedice la nuova Europa. Il populismo nasce dall'egoismo e oggi per la prima volta in visita a Milano. Mattarella, unione instabile, così rischia di non durare. Roma è in stato d'assedio. Adesso apriamo invece lo spazio dedicato ai titoli dello sport. Andando a vedere per prima cosa la gazzetta dello sport. Gol, Italia Gol. Il titolo di apertura a qualificazioni mondiali. Battuta a 2 a 0 l'Albania di De Biasi. De Rossi e Immobile. Due reti per tenere il passo della Spagna. Vedete proprio la fotografia di De Rossi e Ciro Immobile. Stessi punti degli Iberici. 4 a 1 in Israele. Spareggio il 2 di settembre. Bene Verratti. Da rivedere il 4 a 2 a 4. Fumogeni dal settore abbanese. Partita sospesa per 8 minuti. Poi una notizia che riguarda il Milan. Ecco la nuova caparra. Rinnovata l'esclusiva concessa la cordata cinese. Versati 30 milioni più una garanzia di altri 50. Closing fissato al 14 di aprile. Nel taglio alto, scusate, i motori. Ferrari, Vettel contro la freccia. Sarà lui l'anti Hamilton. E poi Rossi, Vignale se lo lascia lontano. Lorenzo però sta peggio. Andiamo sul Corriere dello Sport. Italia credice l'esortazione agli azzurri. Battuta l'Albania per 2 a 0. Per i mondiali deciderà la sfida in Spagna. E poi nel taglio alto, Higuain, Napoli, Eccomi. L'attaccante della Juve è squalificato in nazionale. Rientra subito e si prepara per il ritorno da Ex al San Paolo. E Dybala intanto migliora. Domani parte la Formula 1. Allora di spalla la Ferrari è pronta per sfidare Lewis Hamilton alle 7. GP da Australia con Vettel già tra i grandi favoriti. Oggi la prima griglia. Andiamo su tutto sport. Innanzitutto troviamo un focus sulla partita dell'Italia. Italia a cresta alta. Belotti conquiste il rigore che De Rossi realizza. Immobile firme il 2 a 0. Ero battuta così l'Albania. Petardi in campo. Stop di 9 minuti nella ripresa. Nelle qualificazioni mondiali continua il testa a testa con la Spagna. Vittoriosa per 4 a 1 contro Israele. E poi invece a centropagina troviamo Betancur. Juve ci sono. Vinco e arrivo. Il 19enne centrocampista eroguaiano conferma. Con i bianconeri è tutto fatto. Prima però desidero lasciare il bocca da campione. Ad aprile visita e firma. Poi Lianco, Toro, Eccomi, combatto e sogno. Il 20enne difensore brasiliano entro lunedì sarà in Italia. Si allenerà subito con Mihailovic. Il tecnico vuole in anticipo anche Milinkovic Savic. Si lavora già per la nuova stagione. E dunque questa è la prima pagina di Tutto Sport. Vediamo se abbiamo anche un po' di tempo per vedere qualcosa dall'online. E allora possiamo andare su repubblica.it. Un'altra Europa oggi. I 27 stati dell'Unione firmeranno la dichiarazione di Roma. rilancia l'intregazione contro i populismi e il nuovo protezionismo. Questo per quanto riguarda la notizia sui trattati europei. Scendendo troviamo invece le problematiche che Trump ha avuto con la sua controriforma sanitaria. Trump ritira la riforma per abolire l'Obamacare. La missione di Ryan non abbiamo i voti. E dunque questo è quanto successo negli Stati Uniti. Scendiamo ancora il Papa Milano, carcere e periferia. Oggi la visita di Bergoglio agli ultimi della Metropoli. Andiamo anche sul Corriere della Sera, quindi sul Corriere.it. Il Papa Milano ha atteso un bagno di folla. Tutte le tappe della giornata le trovate sul sito. Sabato mattina il Pontefice a terra allinate alle 8.00. Quindi fra poco più di mezz'ora la visita alle case popolari e poi in Duomo. Nel pomeriggio la messa a Monza, poi il bagno di folla a San Siro. Scendiamo ancora l'intervista. L'idea del commissario, sussidio dell'Unione Europea ai disoccupati. Intanto Roma blindata per il vertice. Il sussidio è un'idea del vicepresidente della Commissione, Dombrovski. Scendiamo ancora. Diffusa la foto del killer, padre di tre figli, per quanto riguarda l'attentato di Londra. Il vero nome del terrorista era Adrian Russell Ayako. Khalid Massoud, il nome da convertito, 52 anni, nato nel Kent, deceduto giovedì sera. Uno dei feriti, aveva 75 anni. Adesso andiamo a vedere anche qualche notizia dai quotidiani online regionali. Poi iniziamo da prima da noi, punto IT. Pronto soccorso, anzi soccorso pronto. Il governo PD neutralizza il piano sanitario, ma solo nel Paese dell'Onorevole. Cancellato il decreto Lorenzine per l'ospedale di Popoli, Castricone esulta. Scendiamo ancora. Ci lascia interdetto. Università d'Annunzio, dopo l'interdizione per abuso di uffici, il rettore di Ilio si dimette. Il 13 marzo, raggiunto da interdizione, oggi la lettera al Ministro. E poi dalla parte di chi? Governo, altri regali ai petrolieri nel nuovo decreto che rivoluziona la via. Norme che creerebbero enormi vantaggi per i privati e pochi per il pubblico. Ancora tre sentenze, ancora tirate d'orecchia la Regione Abruzzo dalla Corte Costituzionale. Svarioni grandi e piccoli per tre norme varate dal Consiglio. Scendiamo. La sentenza che riguarda l'omicidio di Vasto. Fabio Dilello condannato a 30 anni. Omicidio di Elisa. L'accusa. Nessun attenuante ergastro per Dilello. Era stata la richiesta. Attendiamo il refresh del sito. E poi questo per quanto riguarda la condanna che come avete potuto leggere invece è stata di 30 anni con i legali della difesa di Dilello che hanno annunciato appello nella Corte d'Assise di L'Aquila. Passiamo ad Abruzzo Web. Ricostruzione. Tentativo di infiltrazioni dei casalesi sventato dalla Procura. Come imprenditori e professionisti ritenuti vicini al clan camorristico dei casalesi, si sarebbero infiltrati in due imprese aquilane impegnate nella ricostruzione post terremoto 2009, arrivando a distrarre anche con imposizioni e violenze attraverso operazioni fiscali fittizie oltre un milione di euro, fino a causare il fallimento delle stesse. Dieci persone sono finite sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica dell'Aquila con le accuse a vario titolo di bancarotta fraudolenta, frode fiscale ed estorsione. Ad otto di loro viene contestata l'aggravante di aver commesso il fatto con modalità operative utilizzate da soggetti organicamente inseriti, ovvero fiancheggiatori dell'associazione camorristica. Poi ritroviamo anche qui la notizia della condanna per Fabio Di Lello a 30 anni di carcere per l'omicidio di Italo Delisa. Andiamo su ABR News 24. In tempo reale scontro auto-moto a Silvi, muore una donna a cinque giorni dall'incidente. Ancora a Lanciano è stata inaugurata la fiera dell'agricoltura che si terrà nel weekend e poi terramo presentati ieri mattina, ovviamente, accordo di programma e progetto sulla casa dello studente. Noi adesso dobbiamo fermarci per dare spazio al meteo e poi al break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6, torniamo alle notizie dai quotidiani regionali e andiamo sulla pagina di primo piano del quotidiano Il Centro. Sport e violenze, abusi, i bimbi salgono a sei e un ex allievo dell'allenatore racconta al centro l'inchiesta archiviata nel 2011. I primi riscontri da un albergo nelle Marche, il 51enne si registrò in camera insieme ad un bambino, spuntano regali come telefonine Xbox e intanto esplode la rabbia dei genitori. Accuse pesanti per l'uomo che davanti al giudice trema in preda allo shock e non riesce a parlare, il difensore chiede di mandarlo a casa. Questa è la storia che arriva da San Giovanni Teatino. Poi il delitto di Vasto, di Lello, la vendetta gli costa 30 anni, l'omicidio di Delisa che investì la moglie Roberta, scusate, l'omicida di Delisa che investì la moglie Roberta, ascolta la sentenza in lacrime, il procuratore di Florio questa condanna e un monito per gli imbecilli del web. E poi il verdetto dopo 52 giorni, un record dall'investimento della smargiassi e quattro colpi di pistola, le tappe della tragedia ripercorse in questo articolo. Andiamo a vedere anche sul messaggero la notizia che riguarda la condanna per l'omicidio di Vasto, 30 anni a Di Lello, uccise per vendicare la morte della moglie. Lo scontro per il rito appreviato, scusate, salva dall'ergastolo il killer di Italo De Lisa, il 21enne responsabile dell'incidente di luglio. Il dolore muto di genitori e fratello, gli avvocati, vince l'evidenza dei fatti. Allora su quanto successo ieri in corte d'assise a Lanciano andiamo a vedere insieme il servizio. Trent'anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e tre anni di libertà vigilata al momento della fine della pena detentiva. Questa è la decisione della corte d'assise di Lanciano che ha condannato Fabio Di Lello e il 33enne vastese che il primo febbraio ha ucciso a colpi di pistola il 21enne Italo De Lisa davanti al bar Drinkwater di Via Pert. Anche se non è stata accolta in pieno la richiesta di condanna formulata dalla procura di Vasto che ha chiesto l'ergastolo più un anno di isolamento di urno nel corso della requisitoria, l'impianto accusatorio ha retto al giudizio della corte perché è stata accolta la premeditazione sulla quale avevano battuto molto il procuratore Di Florio e il sostituto De Lucia. Tuttavia i sei giudici popolari e i due togati hanno accordato lo sconto di pena previsto dal rito abbreviato riducendo così la condanna a 30 anni. Secondo l'accusa l'omicidio sarebbe una vendetta nei confronti di De Lisa che il primo luglio del 2016 aveva provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita la moglie di Fabio Di Lello, Roberta Smargiassi. Da quel dolore Di Lello non si era più ripreso, arrivando anche ad avere bisogno delle cure del centro di igiene mentale ragion per cui i suoi legali avevano chiesto la perizia psichiatrica rigettata dalla corte. Tuttavia Di Lello nei mesi successivi alla morte della moglie aveva conservato il porto d'armi sportivo con il quale ha acquistato la pistola calibro 9 rivolta poi contro De Lisa arma che resta sotto sequestro per disposizione della corte d'assise. I legali di Fabio Di Lello, gli avvocati Cerelle e Andreoni hanno già annunciato che ricorreranno in appello non appena avranno a disposizione le motivazioni della condanna a 30 anni entro 90 giorni. Il loro obiettivo è far cadere la premeditazione contro cui all'inizio di quest'ultima udienza avevano anche presentato una memoria difensiva di 50 pagine. Leggeremo la sentenza, le sentenze né le critichiamo né le commentiamo, le impugniamo se non siamo d'accordo. Baseremo sempre sul fatto che c'è stato un pregresso che non hanno tenuto in debita considerazione cioè la donna, la moglie che è stato macellato, significa in dialetto tra virgolette, è stato tritata e questa situazione non è stata presa in considerazione da parte della corte ma sarà presa in considerazione certamente da parte della corte d'appello dell'Aquila. Oltre alla condanna di primo grado, la corte d'assise di Lanciano ha stabilito anche una provvisionale di 40 mila euro a favore dei genitori e del fratello della vittima. Alla famiglia di Elisa Di Lello aveva chiesto scusa per il gesto compiuto nel corso della dichiarazione spontanea rese ai giudici nell'udienza del 20 marzo scorso. Gli avvocati Pompeo del Re e Gianrico Ranaldi, legali di parte civile, dopo la sentenza hanno voluto sottolineare come la famiglia di Elisa sia stata sempre fiduciosa nella giustizia e nel lavoro della magistratura, anche quando la veste dell'imputato era toccata di Italo di Elisa. La famiglia di Elisa si è sempre affidata dall'inizio, non da questa vicenda, da quando era successo quello spiacevole incidente stradale al tribunale e continua ad avere fiducia nelle istituzioni. La valenza significativa di questa sentenza è che c'è stato l'accoglimento integrale dell'impostazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, delle aggravanti contestate, è stata ritenuta la premeditazione e questa è la valenza significativa di questa decisione. Dunque queste le reazioni a seguito della sentenza. Adesso cambiamo argomento, restiamo sempre alle pagine di primo piano del centro, ma parliamo della donata degli Alpini, la sfilata dei 10 mila per non dimenticare. I compie 25 anni la commemorazione dei caduti della campagna di Russia, domani a San Gabriele gruppi da tutto l'Abruzzo e da altre regioni. Andiamo ancora avanti, scorriamo il giornale rapidamente per recuperare le pagine delle cronache di Pescara. Mare da salvare, barriera di 125 metri contro l'inquinamento. Ecco il progetto inviato ieri al Ministero, galleggianti e scogliere più basse per fermare l'acqua del fiume sulla costa, lunedì fissato un nuovo vertice. Un'impresa uscire dal porto, i pescatori dicono i lavori sono in ritardo, le imbarcazioni faticano a prendere il largo di notte a causa dei banchi di sabbia, difficoltà anche per raggiungere il distributore e il dragaggio si è fermato. Intanto, sempre a Pescara, oggi riapre la riserva d'Annunziana e alla Madonnina Pulizia della Spiaggia. Continuiamo, emergenza abitazione, separati o senza un lavoro in 500 in cerca di una casa. Per l'Ater si potrebbero recuperare 220 appartamenti ma mancano i fondi. Niente soldi neppure per fermare la piaga dell'occupazione abusiva degli alloggi. E poi la politica resti fuori dalle Ater. Di Matteo chiede che gli enti siano guidati da tecnici indipendenti e competenti. Così l'assessore regionale. Intanto nasce il fascicolo di fabbricato dati di 400 stabili. Si chiama appunto fascicolo di fabbricato ed è un software realizzato direttamente dall'Ater di Pescara. Internamente lo ha realizzato il manager e ora, una volta completato, il software viene messo a disposizione delle altre Ater abruzzese, le quali viene anche garantita l'assistenza. Continuiamo con le cronache pescaresi. Di pista ciclabile di via Moro, Alessandrini contestato. Il sindaco sbaglia strada e viene coinvolto nella protesta delle mamme. Poi promette la sospensione dei lavori per individuare un percorso alternativo. Ancora, completiamo la lettura delle pagine di Pescara del centro. E di 14 studenti pescaresi. Il miglior video sulla legalità. I ragazzi delle medie Michetti Pascoli, premiati nella sede della Finanza a Roma. Il concorso nazionale era indetto dal Rotary Cerimonia con Antonio Di Pietro. Scandinavintour tra i gioielli pescaresi da Manopello a Penne insieme alla Camera di Commercio tra le attività svolte pescaturismo, bici e cucina tradizionale. Passiamo adesso sul messaggero. Andiamo a vedere anche qualche notizia dalle pagine di Pescara del messaggero. Il silenzio delle PD frena il rimpasto e l'apertura di pagina. Cadute nel vuoto le istanze di un confronto nel partito. I segretari tacciono. E a decidere tutto è solo D'Alfonso. Non si risolve lo scontro per la presidenza del Consiglio. Si attende il primo aprile, ma c'è il rischio che tutto salti. Poi, esposto sui lavori al trabocco di Milia, la società Europa SRL ha rilevato la struttura di Araco distrutta dal rogo doloso del 2004. Tutto in regola, assicurano i progettisti. Andiamo ancora avanti con la lettura del messaggero delle pagine di Pescara. Una star per la Fontana di Spalletti sarà Carla Giovannone, un'autorità del restauro lapideo, a curare con l'Accademia dell'Aquila il recupero dell'opera. Ieri l'incontro tra il presidente del Tribunale Bozza e il sindaco Alessandrini. Si attende l'ok del Ministero. Ancora avanti con la lettura dei giornali. Andiamo nell'area metropolitana. Cratere è ampliato, sì della Camera, c'è pure Farindola. Ammessi altri nove paesi, esulta l'onorevole PD Castricone, 300 milioni in arrivo, proroga di tre anni per gli ospedali. Premiato l'ottimo lavoro di squadra, dice il deputato. Sospensione delle tasse fino a novembre. Torniamo sul quotidiano Il Centro adesso e andiamo a vedere le altre pagine. In particolare quella di Montesilvano. Consiglio Comunale, tasse a rate, tari, sì agli sconti per le start-up e i pagamenti diluiti. L'Assemblea vota all'unanimità il nuovo quadro tariffario e un emendamento dei dissidenti di hashtag Montesilvano 2019. E poi finanza innovativa, coinvolte 200 piccole aziende con i progetti Sardex e Abrex. Le ragioni sono state spiegate in un convegno proprio a Montesilvano. Nel taglio basso, apre domani la casa della mamma, nella villetta sequestrata ai Rom in via Adige, la nuova sede delle Vincenziane. Andiamo nell'area metropolitana. Una disabile lasciata a piedi per le visite mediche e a Montesilvano la protesta di una 26enne non vedente dalla nascita, che vive sola e deve sottoporsi a test oncologici, negata la concessione delle mezzo di trasporto. Città Sant'Angelo, migranti, due assemblee con i cittadini organizzate dal sindaco Florindi e poi Spoltore, la piccola Michelle, prima nella corsa. Sempre da Spoltore, via libera al bilancio da 25 milioni, passa in consiglio la manovra finanziaria che lascia le tasse inalterate. La pagina di Francavilla, la nazionale paralimpica incontrerà 400 studenti, raduno dei 16 atleti convocati dal CT Azzurro Mario Valentini da confermare l'arrivo per giovedì di Alex Zanardi al Museo Michetti. Andiamo alla pagina di Penne e Popoli dell'Alta Val Pescara, l'ospedale salvato e farindola nel cratere, notizie che abbiamo visto anche in precedenza sul messaggero. E poi Scafa, la finanza scopre un evasore totale nel mirino, un artigiano del cuoio che esercita danni nel centro del paese. Il sindaco faremo controlli più approfonditi a Caramanico Terme, ecco gli appuntamenti per le giornate FAI di primavera. Andiamo ancora avanti, adesso ritorniamo sul messaggero, andiamo a vedere le altre notizie dalle altre province. Iniziamo dall'Aquila, sotto servizi pericolosi, esposto in interrogazione parlamentare per l'otti dei 5 Stelle, il tunnel a basso costo potrebbe avere esclusi i cannoni realizzativi, l'avvocato Corti nel centro storico si passa proprio a filo dei palazzi. E poi Tito Boeri, call center, vale la disciplina contrattuale, questo è il chiarimento del presidente dell'Inps. E ancora la CGL, l'ufficio ricostruzione non paga gli stipendi, questo grido d'allarme lanciato dal sindacato. Le primarie del Partito Democratico, la pezzopane non si schiera, passo indietro nel rispetto di ottimi candidati. E poi nel taglio basso, Verdacqua resta a 99 Sport L'Aquila, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato per la gestione dell'impianto sportivo. Andiamo avanti, i casalesi hanno fatto fallire due aziende per mettere le mani sugli appalti milionari del post-sisma, hanno prima acquistato e poi mandato alla malora due imprese, pesanti pressioni sui titolari con minacce, un legale di Modena era il gancio per ripulire gli affari, anche il comune tra le vittime. Scendiamo in basso, Alpina cade dalla bici e si frattura la mandibola, questo l'incidente riportato dal centro e poi concerti, musica classica protagonista, oggi la Isa, domani la Baratelli e martedì solisti aquilani. Andiamo sulla pagina di Avezzano sul Mona, Fucino spunta, disputa, scusate, sui fondi per l'irrigazione. Il presidente consorzio di Bonifica ribatte a Confagricoltura sull'esecuzione dei lavori, è meglio che li faccia la regione. I soldi ci sono, siamo pronti per ottenere il massimo dal bando, sui bacini rigui c'è ancora un rivio ma i tempi ormai stringono. Poi una notizia curiosa, Cannavaro compra casa a Roccaraso, l'ex pallone d'oro 2006, acquistato un'abitazione proprio nel verde del parco. Da Sul Mona ci autotasseremo per la statua di Ovidio. Sono trascorsi ormai 17 anni dall'ultimo restauro della statua, simbolo della città di Sul Mona. Andiamo avanti con la pagina di Chieti. Ateneo il rettore, all'addio, io innocente, ora il voto. Il magnifico, l'adannunzio, continui il cammino della ricerca e dell'educazione. Il mio passo indietro consente di indire le elezioni, occorre una guida stabile per l'Ateneo. E poi megalo 2 bocciato, il WWF dice ci opporremo anche al Tar. Continua il braccio di ferro, raffica di reazioni dopo la decisione del comitato via, i negozianti, noi presidio del centro storico. Il lodo finisce in tribunale, Toto condannato, 42 milioni a Dall'Italia. Toto Holding è stata condannata a versare 42 milioni di euro a Dall'Italia, come deciso un mese fa a Milano, da un arbitrato per la cessione di Air One. E poi nel taglio basso, Pedofilo, c'era anche una casa degli orrori, la notizia l'abbiamo vista anche in precedenza sul quotidiano, il centro. La pagina di Lanciano-Vastortona, al porto, ora arrivano gli americani, ovviamente parliamo del porto di Ortona. Fino ad ottobre sarà meta della nave da crociera Artemis, della storica compagnia statunitense Grand Circle Cruise Line. Dopo l'avvio della collaborazione con il gruppo Grimaldi per l'imbarco dei mezzi Seville, prende corpo il traffico passeggeri. A Vasto, la pista ciclabile che non c'è, scatta la protesta. E poi ancora, Chiesa di San Nicola, forte dice, ci servirà una controperizia. E poi da Lanciano, questa fiera segna l'inizio di una nuova primavera, l'apertura della fiera dell'agricoltura. Soddisfatto l'assessore regionale Dino Pepe all'inaugurazione della rassegna. Passiamo adesso alle notizie dal Terramano e dunque ci spostiamo sulla città. Tecnici della procura nelle scuole ristrutturate, ovviamente parliamo delle scuole del capoluogo, i consulenti avviano i sopralluoghi per un confronto con la documentazione fornita da comune e provincia. La max inchiesta, la procura di Terramo, sta indagando su una lista di 32 scuole, tra comunali, cittadine e scuole superiori della provincia. Nel taglio basso, scuole superiori, verifiche antisismiche entro giugno con 700 mila euro. Coinvolti 50 professionisti dell'ordine degli ingegneri organizzati in squadre miste, senior e junior. Andiamo avanti, casa dello studente d'amico, più che corvi solo galline spennacchiate alla presentazione del progetto. Il rettore attacca l'azione dei contrari a prescindere che si oppongono sempre al cambiamento. Andiamo a vedere insieme il servizio su questa notizia. Il governo sanzia 3 milioni di euro per la nuova casa dello studente a Terramo e la città torna a sognare in grande. Forse questo è il primo progetto che segna il rilancio di questa città? Il primo progetto è di un quadro progettuale ancora più ampio, molto più ampio, che vedrà, io auspico già nel prossimo anno, l'apertura di tre cantieri formidabili. La casa dello studente, il recupero dell'ex manicomio, la realizzazione del polo agrobio-veterinario in collaborazione fra il sito zooprofilattico e l'università. Sono convinto che la portata strategica di questi progetti sia del tutto auto-evidente e cambierà l'assetto dell'università. Io sono convinto che cambierà anche l'assetto della città. La nuova residenza universitaria sorgerà nell'edificio dell'ex rettorato di Viale Crucioli e il progetto prevede la riqualificazione dell'immobile storico e dell'intero quartiere. Le linee generali dell'intervento sono state illustrate alla cittadinanza dai vertici dell'Azu di Terramo, l'azienda per il diritto allo studio che gestirà l'intero progetto. Con la nuova casa dello studente, uno studente che arriverà a Terramo, cosa avrà in più? L'obiettivo è quello di farli ritrovare in un ambiente gradevole, piacevole e accogliente. Tutta la struttura è molto complessa, ci sono vari aspetti. L'edificio principale, che poi è il logo di questa manifestazione, della presentazione dell'accordo di programma, è l'edificio A, l'edificio prospiciente della strada. Lo porteremo a un restauro filologico di tutto l'immobile e lo riporteremo agli anni 30. In quanto tempo sarà pronto? L'intervento, grazie a questo emendamento prestato a provo di 3 milioni di euro, speriamo di poter iniziare per l'inizio del prossimo anno. La gara la farà la prima amministrazione provinciale perché è centrale di committenza, quindi potremmo partire con un primo lotto immediatamente, per il prossimo 2018 sicuramente potremo partire. Mentre invece per gli altri lotti dovremmo aspettare i decreti attuativi del decreto ministeriale che potrebbero passare anche qualche anno. Le altre notizie dalla provincia Teramana, in Val Vibrate, i vongolari chiedono il censimento dei depuratori e schiericacoli sopra la norma e ordinanza sulla pesca dei molluschi che è su un tavolo a Pepe Tortoreto. Le analisi dell'Asla hanno riscontrato la presenza del patogeno ben sopra i parametri di legge. Poi la cronaca, l'attitante siciliano si nascondeva a Colonnella. Andiamo avanti, verde pubblico, a Giulianova il sindaco fa la vittima, spiace solo che Giulianova venga controllata, ma il Conalpa è stato anche a Silvi. Rapidamente, nella pagina di Roseto Pineto da Tre Silvi è morta la motociclista travolta a Silvi. La donna, vittima di un incidente domenica, era ricoverata a Pescara. Una donna piemontese viaggiava sul lungomare con il marito quando sono finiti contro un'auto. Roseto ha messi gli aumenti sull'Atari e sui servizi. Il sindaco di Girolamo punta il dito sulle criticità di bilancio ereditate da chi lo ha preceduto. Il problema negli anni scorsi è stato fatto troppo ricorso alle anticipazioni di cassa e di liquidità. Adesso apriamo la pagina dedicata allo sport regionale e dunque torniamo sul quotidiano. Il centro, recuperiamo la pagina che riguarda il Pescara. Il primato speciale, nessuno come il Pescara, 32 giocatori per affondare. Quella biancazzurra è la squadra che ha utilizzato il maggior numero di calciatori. Dopo 29 turni non c'è una formazione tipo. Dopo Oddo, anche Zeman in difficoltà. Hanno pesato i tanti infortuni, i bizzarri sempre presenti, mentre in attacco solo Craprari è stato un punto fermo. E poi c'è l'intervista ad Alessandro Bruno. Il centrocampista dice che abbiamo perso l'autostima, saranno decisivi gli scontri diretti. E allora andiamola ad ascoltare Alessandro Bruno. Bruno, nelle ultime uscite Zeman ha detto che la squadra non ha avuto un positivo atteggiamento tattico, forse anche un po' troppa paura di giocare. Intanto sei d'accordo con questa analisi? Sì, effettivamente sì, ma arrivato a questo punto è normale che ci sia la paura. Prepariamo sempre le partite in modo corretto, però alla prima difficoltà ci sciogliamo come ne va il sole. È un problema psicologico e non riusciamo a superare questa difficoltà. È una difficoltà che comunque è normale che ci sia, perché dopo tanti risultati negativi è normale che entra un po' di paura, non c'è più quella libertà di giocate, di pensiero che c'era all'inizio del campionato. Quanto è difficile assimilare gli schemi Zemaniani e c'è stato poi il tempo effettivamente per farlo? Il gioco che vuole il mister è tutta un'altra cosa rispetto a quello che attuavamo in precedenza. Il mister vuole sempre le giocate negli spazi, giocare sempre negli spazi e mai palla addosso, viceversa quello che ci chiedeva il mister Oddo, che facevamo un calcio più sui piedi che sullo spazio. Io non so quello che fanno gli altri, vogliamo finire in modo dignitoso, in maniera positiva il campionato, perché ci sono i tifosi da rispettare, c'è la società da rispettare, ci sono tante gente da rispettare, quindi non mi sembra il caso parlare di futuro in questo momento di stagione. Chi lo fa per me non è rispettoso nei confronti di tutti, ma soprattutto per noi compagni. Io ci credo ancora, perché se vinciamo tre scontri diretti ci mettiamo lì e poi dopo vediamo come vanno a finire le cose. Ci credo, non dobbiamo smettere di crederci, dobbiamo trascinarci dietro quanto più persone possibile, perché i miracoli esistono e nel calcio esistono, quindi possiamo essere anche noi un miracolo. Ancora Pescara però questa volta dall'Abruzzo Sport del Messaggero, un anno stregato, Franco Oddo parla della stagione del figlio Massimo, ha commesso errori di valutazione ma li ha pagati troppo, ha affrontata la A con una squadra più debole di quella della B, Zeman è stato un ottimo tecnico ma legato a un solo tipo di calcio. Questa è l'opinione di Franco Oddo, sono stati decisivi gli scontri diretti per la salvezza, la partenza di Torrera è stata sottovalutata. Torniamo sul quotidiano il centro, andiamo a vedere adesso la Lega Pro, domani a Mantua Teramo alla riscossa dopo cinque sconfitte di fila in trasferta nel girone di ritorno, sempre K.O. lontano dal Bonoli, Sugolotti ancora con il dubbio Petrella, oggi si decide. Andiamo a vedere anche il titolo della città sul Teramo, Teramo out Petrella col Mantua per la continuità, all'esterno soffre ancora per un problema fisico, ballottaggio tra Tempesti e Carraro per il ruolo di trequartista. Oggi inizia la giornata, nel pomeriggio si apre il campionato con l'anticipo tra Pordenone e Lumezzane, il Teramo tiferà per la vittoria dei Neroverdi, domani fischio di inizio al Martelli alle 16.30, intanto fuori anche altri due, anche il difensore imparato e il centrocampista Baccolo non saranno della partita domani. Andiamo a vedere anche le altre notizie per quanto riguarda sempre lo sport e dunque ritorniamo sul centro. Il congresso nazionale della WISP, il ministro Fedeli e Malagò, WISP esempio da seguire. A Montesilvano 334 delegati per un movimento che conta 1,4 milioni di soci, il presidente del CONI, Zeman, siamo tutti affezionati a lui, in merita fiducia, dunque una battuta anche sul Pescara. Andiamo ancora avanti, scendiamo nei dilettanti. Giulia Nova l'esodo per la promozione per quanto riguarda le nobili decadute abruzzesi. Domani a Castelnuovo la sfida che può valere il salto in eccellenza. Chieti alle 15.30, giornata Neroverde con lo spoltore. Il basket di A2, Di Paolo Antonio Roseto, un'altra impresa. Il coach carica i biancazzurri, giocheremo al massimo contro la Fortitudo per una missione quasi impossibile. L'anticipo del Palamagetti alle ore 14.00. Poi il rugby, l'Aquila una sfida da primato. Serie A domani al Fattori contro i Medici per consolidare la leadership. La sfida come detto alle 15.30 e speriamo che l'Aquila possa continuare la sua corsa. Andiamo ancora avanti con il calcio a 5. Final 8 di Coppa Italia, Pescara Under 21 in trionfo, ora tocca i grandi di Colini. Dominio biancazzurro nella manifestazione giovanile 7-0 in finale all'Asti. Oggi pomeriggio alle 17.00 la semifinale contro il Caos al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. E dunque questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Mattino 6 termina qui. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.